L'opposizione thailandese torna a chiedere tre giorni di disobbedienza civile. Insufficiente a suo giudizio il ergetto da parte del Senato della legge sull'amnistia per i reati politici. Da dieci giorni l'opposizione era in piazza per protestare contro un testo che al momento resta congelato, ma che il governo potrebbe ripresentare dopo 180 giorni. Tra misure di sicurezza imponenti, migliaia hanno manifestato nella capitale Bangkok, contro, secondo i democratici all'opposizione, una legge fatta ad personam per l'ex premier in autoesilio Takshin Chinawatra, condannato nel 2008. Il testo prevede l'amnistia dei condannati per crimini politici, inclusi i reati di corruzione e omicidio, tra il gennaio del 2004 e l'agosto del 2013. Anche una parte delle camicie rosse, gruppo vicino agli Chinawatra, si oppone a un'eventuale amnistia perché potrebbe lasciare impuniti il responsabile della morte di oltre 90 persone uccise durante le manifestazioni del 2010 schiacciate dall'esercito.